un prezzo minimo, il prezzo di riserva che vuoi realizzare a infochiocciolaarteinvestimenti.it Noi stiamo preparando una serie di manifestazioni, aste, vendite televisive che ci permetteranno di realizzare al meglio la tua collezione, al meglio e nei tempi più brevi. Te lo dico con gioia, approfittane, ne sarai ben soddisfatto. Cari amici, va ora in onda proposte di investimento a cura di Francesco Boni che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Grazie a tutti! Carissimi amici, buona giornata, buona giornata, benvenuti. Ho trasmissioni molto vive, trasmissioni assolutamente interessanti. Voglio immediatamente aprirvi gli occhi. Voi sapete, ho cercato di spiegarvi un mare di volte, come funziona il sistema, come funziona il mercato. Sapete chi c'è sulla rampa di lancio del mercato non solo italiano ma internazionale? Il vecchietto per antonomasia. Giuseppe Biasio. Il Rauschenberg italiano. Quell'artista che ha una storia alle spalle da far paura. L'unico artista che io abbia conosciuto nella mia vita è che non ha mai voluto che un suo quadro fosse oggetto di commercio. Quindi è un visionario, uno di quegli artisti puri. Lui ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia che non aveva bisogno, abbiente di Padova. E poi praticamente tutta la sua vita l'ha dedicata alla cultura e alla pittura. Poi, naturalmente nell'ambiente artistico, dal punto di vista critico, dal punto di vista storico, era conosciutissimo fin da giovane, perché da giovane lui frequentava Tumbly, da giovane frequentava Rauschenberg, da giovane era uno di quelli che poteva permettersi di stare negli Stati Uniti otto mesi e studiare tutto il mercato, il sistema e la produzione dei grandi americani. Quindi è diventato un mito nel mondo dell'arte. Oh, la Biennale di Venezia, si è accorta di lui, gli ha dedicato due libri, due edizioni della Biennale di Venezia. Biasio è stato ospite, è stato invitato alla Biennale di Venezia. Per ben due edizioni, gli ha dedicato la Biennale due libri e i tre quadri che ho l'opportuna di farvi vedere oggi, che sono tre gemme, tre preziosità, valgono Rauschenberg, sono opere pubblicate sul libro Una vita, che la Biennale di Venezia ha dedicato a Giuseppe Biasio. Sapete quanti anni ha Biasio? Biasio è del 27, quindi è un'artista che ha quasi 100 anni. Immaginate quello che sta per succedere su Biasio. Diventerà uno degli artisti di punta del mercato per i prossimi 20 anni. E io vi anticipo sempre i tempi, dandovi le opere capolavoro. Adesso, alla Fortezza di Arezzo, insieme a Mambor, hanno voluto dedicare uno spazio a Biasio. A Biasio. Quindi, state pronti, state pronti. Comprare un'opera di Biasio oggi è come aver comprato un'opera di De Maria, un'opera di Salvo, cinque anni fa, sei anni fa, dieci anni fa. Il grande De Maria, che io vi ho fatto comprare a 40-50 mila euro, quello strepitoso, adesso è in una delle vetrine dei più grandi mercanti del mondo e chiedono dieci volte di più. normale, Biasio diventa il Rauschenberg italiano e voi avete la possibilità di comprare tre opere pazzesche pubblicate sul libro ufficiale della Biennale Veneziana, pubblicate sul libro Una Vita, dedicato a Biasio in occasione dell'invito e della partecipazione alla Biennale di Venezia. Tre opere che vanno al di là di Rauschenberg, non vi dico altro. Vedete l'intelligenza del vero grande collezionista? Comprare i mostri sacri quando costano ancora niente, quando costano ancora nulla, ma comprare i mostri sacri, le opere che diventano immortali, che già dal punto di vista critico e dal punto di vista storico hanno un valore importante, ma che poi diventano oggetto della speculazione del sistema di mercato. Giuseppe Biasio, tre opere dalla Biennale Veneziana. Poi chiedetemi, poi chiedetemi, poi chiedetemi, perché questa è la giornata dei grandi quadri, questa è la giornata delle grandi opportunità. Ho voluto cominciare da quella, potete prendere delle opere storicamente fondamentali a due soldi, perché Biasio oggi lo pagate, un artista con la sua storia che ha quasi cento anni, Biasio oggi lo pagate il prezzo che pagate un pittore esordiente. Quindi è una follia non comprarlo, è letteralmente una follia non comprarlo. Poi tre opere universali che vanno oltre Rauschenberg, che vanno al di là della ricerca di Rauschenberg. Tre opere colossali, ma oggi di opere colossali, ma oggi di opere strepitose. Sapete quante ve ne faccio vedere? Guardate che cosa c'è al numero 23. Questa è un'opera non famosa, famosissima. Sapete da dove proviene? La mitica collezione Iacogossi. La mitica collezione Iacogossi. Il mitico petroliere che quando ero giovane a Roma era il collezionista per Antonomasia. tutte le opere d'avanguardia intellettuale, chi ha voluto la mostra e ha finanziato la mostra di Schifano al Palazzo delle Esposizioni, è stato Iacogossi. Nella collezione Iacogossi ci sono i capolavori della cultura romana degli anni 60. monotipo del mitico incidente. Oh, qui siamo, qui Gabriele siamo alla metà degli anni 70 come epoca, se non sbaglio. Allora, sì esatto. Esatto. Quindi siamo alla metà degli anni 70. Monotipo. Cosa significa monotipo? Che ne esiste uno al mondo. Che ne esiste uno al mondo. Collezione Iacogossi, quello che state vedendo. Queste sono le opere che oggi i Dasote e i Bispanno 50.000-60.000 euro a livello internazionale. Non bloccare un'opera del genere di Mario Schifano. Nel momento in cui su Mario Schifano i prezzi sono crescenti in maniera incredibile. E nel momento in cui Mario Schifano sta diventando un punto di riferimento del mercato internazionale. Ma le opere che vi ho sempre consigliato io, cioè quelle non solo autentiche, ma rigorosamente autografe. Guarda che meraviglia ho la fortuna di farvi vedere oggi. Chi ha un'opera di Mario Schifano degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, deve aggiungere nella sua collezione un'opera storica come quella che vi sto facendo vedere. Sono le opere essenziali, sono le opere fondamentali. Guardate, oggi vivremo una trasmissione in cui vi presento i grandi della storia che sono in espansione di prezzo. E quegli artisti come Giuseppe Biasio, ma poi ne vedremo altri, che diventeranno i protagonisti del mercato dei prossimi dieci anni. Mi raccomando, intervenite subito. O, comprare un'opera così di Schifano significa comprare le opere che vengono, che hanno per provenienza delle più grandi collezioni italiane. Avere la fortuna di poter acquisire un'opera che ha questa provenienza, significa comprare un'opera eterna. Quindi non esisterà mai catalogo generale, non esisterà mai archivio che metterà in dubbio l'autenticità di questa opera. Questo è essenziale per un investimento nel tempo, per un investimento su un grande artista, per un investimento che abbia una base solida e sicura. Tra l'altro è un pezzo da museo, tra l'altro è letteralmente un pezzo da museo, un pezzo da grande museo. Opera storica, grandiosa di Mario Schifano. Opera storica, straordinaria di Mario Schifano. E ve lo chiedo, come vi ho chiesto di comprare i De Maria, come vi ho chiesto di comprare i Salvo, come vi ho chiesto di comprare i Boetti, non perdete, purtroppo ne ho tre solamente. Quindi solamente tre di voi potranno dire, io ho avuto l'attenzione, l'intelligenza di comprare un'opera che viene dalla Biennale di Venezia di un mostro sacro, perché Giuseppe Biasio è un mostro sacro, a due soldi. E poi vi ritrovate in casa un patrimonio. Tre opere tutte e tre pubblicate, tre opere tutte e tre protagoniste della Biennale di Venezia e pubblicate sul libro ufficiale della Biennale veneziana. Precipitatevi, tre di voi potranno dire, io ho comprato un genio come Rauschenberg, a livello di Rauschenberg, quando il mercato mi concedeva di comprarlo a due soldi. E vi ritrovate un capitale in casa, tre opere immortali. E poi vi ho fatto vedere l'incidente storico della collezione Iacorossi, monotipo degli anni 70 di Mario Schifano. E vi voglio far vedere due gemme autografe, una più bella dell'altra. E le ho volute mettere una sopra l'altra, cosa che non facciamo mai, per farvi capire proprio visivamente quello che cerco di spiegarvi da una vita. L'autografia, la calligrafia pittorica di Mario Schifano. Vedete il tratto, i materiali, il gesto, sono uguali. Vedete proprio le due opere, le ho volute mettere una accanto all'altra, proprio per farvi leggere quella che è la calligrafia originale pittorica di Mario Schifano. E sono due opere di una bellezza, di una qualità, di un'importanza storica assoluta, tra le opere più rare e più belle di Mario Schifano degli anni 90. La numero 13 è pazzesca, la numero 12... Sono le opere di grande qualità, sono le opere dove non solo c'è l'idea, ma c'è anche la mano personale di Mario Schifano. Non solo l'idea è la mano di uno dei suoi numerosi collaboratori. Qui sono due opere integre, totalmente eseguite da Mario Schifano, da follia, da follia. E poi, chi studia l'opera di Mario Schifano, chi è innamorato dell'opera di Mario Schifano, come lo sono stato io, io è dal 58, da quando vidi per la prima volta Mario in una mostra all'attico, dal 58 che vi consiglio e adoro le opere di Mario Schifano, quindi le conosco come pochi. E quando vi do l'opportunità di acquisire opere di questo spessore, e di questa qualità, so di mettervi in mano le opere vincenti. O, accanto a questi due dipinti preziosi di Mario Schifano, accanto al mitico incidente di Mario Schifano, che sono felice di aver potuto presentare in questa trasmissione, metto due fotografie storiche di Mario Schifano che anticipano i mitici televisori, che sono la matrice delle emulsioni che nascono proprio all'inizio degli anni 70, che sono la vera passione di Mario Schifano, oltre alla pittura, era il cinema, lo sapete perfettamente, era il cinema e la fotografia. E quelle strepitose emulsioni della fine degli anni 60, dell'inizio degli anni 70, sono precedute da queste due fotografie. Questa poi è diventata una delle emulsioni più famose nel mondo di Mario Schifano. Quindi, due reperti fotografici storici di questa importanza, sono due punti fermi nella storia di questo magico artista. e capite che cosa significa comprare le opere storiche? E sapete che cosa significa comprare i punti fermi dal punto di vista intellettuale dell'origine dell'opera di un artista? Significa comprare le opere museali. E quelle che ho la fortuna di farvi vedere oggi, il mitico incidente, i due dipinti grandiosi, quelle due fotografie storiche, sono opere museali di Mario Schifano. E qui non c'è archivio, non c'è storico dell'arte, non c'è critico d'arte, non c'è direttore di museo che possa dire che ho detto una cosa non vera. Non è come tanti miei colleghi che parlano di capolavori, capolavori che poi capolavori non sono. Voi sapete che io odio pronunciare questo termine. Perché? Non perché ce l'ho qualcosa contro i capolavori, perché è un termine che è televisivamente stra abusato. I miei colleghi ogni cinque minuti tirano fuori un capolavoro. Anche i capolavori sono rari. I capolavori, cioè è un termine da rispettare, mentre invece viene usato in maniera irrispettosa. Ma queste sono opere che sfido qualsiasi storico dell'arte, qualsiasi direttore di museo, che dica che non sono opere museali di Mario Schifano. Cioè non esiste, non esiste. E se i due dipinti sono grandiosi, se le due fotografie sono di un'importanza storica, storica, straordinaria. Poi tra l'altro incorniciata in maniera clamorosa da uno dei più grandi, non è più un artigiano, è un artista anche lui. è uno dei più famosi corniciai italiani, fiorentino, che conoscono tutti praticamente. Due opere pazzesche. E a due opere pazzesche, che sono la matrice delle mitiche emulsioni di Mario Schifano, aggiungiamo una foto che è nella storia dell'arte. Questa è la mitica foto di Mario Schifano, giovane, della Ruspoli, eseguita dalla Ruspoli, quando Mario Schifano era giovane, quando Mario Schifano ebbe la possibilità, primo artista italiano, di avere un contratto con Ileana Sonnabend. Quindi non è vero che Mario Schifano è stato rifiutato dagli americani. Ileana Sonnabend gli aveva fatto un contratto che lui ha rotto. Non l'ha rotto Ileana Sonnabend. Un giorno ve la voglio raccontare tutta la storia, nei particolari, la storia di quel contratto. Quindi altra opera storica, altra opera introvabile, altro momento magico per conoscere l'opera di Mario Schifano. Amici, dovete intervenire subito, dovete intervenire subito, perché queste opere vanno via. L'incidente di Mario Schifano, che viene dalla mitica collezione Iacorussi, quando mai più avrete la possibilità di comprarlo? Avete mai visto le foto vere, storiche, archiviate di Mario Schifano, propedeutiche alle mitiche emulsioni? L'avete mai viste queste opere fotografiche di Mario Schifano, archiviate, storiche, grandiose? e poi una foto epocale, quella della Guspoli, dedicata a uno Schifano giovane, che non a caso, ha proprio la macchina fotografica in mano, che non a caso, ha proprio scattata nello studio, e lui che aveva proprio la macchina fotografica in mano. E non è una macchina qualunque, è una Polaroid? E non è una macchina qualunque per l'epoca, perché se la guardate con attenzione, è una delle edizioni storiche della Polaroid, della mitica Polaroid, che allora era, allora era, ti dava la possibilità di avere la fotografia istantanea, e quindi per l'epoca era un qualcosa di magico, di magico. Amici, una serie di opere da sogno, una serie di opere di Mario Schifano da sogno, e ci voglio aggiungere un ospizio, un piacere, una gemma per un collezionista, uno dei veri paesaggi anemici degli anni 70. Franco, scusa, guardiamo un attimo una foto di un'opera dei Francapisani per un amico, te la facciamo vedere in diretta, te la manda Raffaela. La vediamo immediatamente, la vediamo immediatamente, che meraviglia! Questo è il mitico Tempo Sospeso, che si riallaccia agli studi della Pisani, proprio quando, queste sono le opere più recenti di Francapisani, pazzesche, dove Francapisani applica per la prima volta nella sua vita il colore sulle trasparenze, il colore su quelle linee primordiali che nascono proprio dalla sua ricerca sulle origini della pittura nel Paleolitico. sono le opere che adoro di Francapisani, sono le opere storiche, sono le opere storiche, grandiose, di Francapisani, da urlo, da urlo. Poi ve ne farò vedere un'altra che ho qui in studio, ma sono le opere, amici, altra artista sublime, Francapisani, altra artista sublime, Francapisani, altra artista che la critica, gli storici dell'arte, i curatori di museo, oggi portano in palma di mano. Io non vi posso dire né dove né quando, ma vi avverto che la prossima mostra di Francapisani, già programmata a livello museale, già programmata a livello museale, ai livelli botero, ai livelli botero, porterà Francapisani ai prezzi di botero. quindi fate attenzione, Francapisani è un genio, Francapisani faceva colazione la mattina con Botero, tanto perché voi dovete capire cosa significa Francapisani nel contesto della cultura e dell'arte internazionale. quando io mi batto, perché voi accanto alle opere storiche di Schifano, accanto alle opere storiche di De Chirico, accanto alle opere di Boetti, accanto alle opere di Fontana, accanto alle opere di Burri, ci avete già messo Rauschenberg, ci avete messo Tombly, ci dovete mettere Francapisani, Giuseppe Biasio, Angelo Dozio, Alberto Gallingani. Sono gli artisti oggi storici sulla rampa di lancio che domani la maggior parte di noi non avrà abbastanza soldi per comprarli. Quelle tre gemme di Giuseppe Biasio che vengono dalla Biennale di Venezia, o le catturate al volo, o vi restano qua, o vi restano qua, perché sono opere grandiose pubblicate a livello Biennale di Venezia, non pubblicate a livello Galleria Pernacchiotti, pubblicate a livello Biennale di Venezia, che diventano i punti di riferimento del mercato di domani, come lo è diventato Rauschenberg. Le opere di Schifano che vi sto facendo vedere oggi, dal mitico incidente dalla collezione Giacorossi, alle due opere pazzesche degli anni 90, alle fotografie storiche che anticipano addirittura le emulsioni, da quella foto della Ruspoli dello Schifano giovane fino a quel delizioso paesaggio anemico che nasce proprio come una delle opere di diffusione degli anni 70. Ma sono tutte opere, sono gioielli, sono gioielli, tutte opere che entrano nel patrimonio culturale della contemporaneità. Quindi, tutte opere che abbiamo la possibilità di offrirvi a prezzi clamorosi delle quali dovete approfittare. In tanti ci hanno chiesto riguardo alle foto di Schifano che tiratura abbiano. Sono pezzi unici. attenzione e differenziamo, non è che non hanno tiratura e quindi sono tanti, no, sono uniche, una su una. Avete capito? Quelle foto di Schifano che ho la fortuna di farvi vedere non sono in tiratura 9, 15, 50, 100. Una, una archiviata storica, una, una al mondo archiviata storica, quella che vedete non ce n'è un'altra. Lo capite che cosa vi stiamo dando oggi? perché ho voluto questa trasmissione? Perché in questa trasmissione c'è la storia dell'arte di ieri e i grandi artisti contemporanei ma Biasio ha quasi 100 anni quindi è uno dei più grandi artisti della seconda metà del ventesimo secolo sui quali c'è l'attenzione dei musei e del mercato mondiale come sull'opera della Pisani precipitatevi 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 perché le opere che ho la gioia di farvi vedere oggi sono insostituibili di quella foto ce n'è una delle foto di Mario Schifano ce n'è una quella che vedete archiviata e storicizzata quel monotipo lo dice il nome stesso monotipo ce n'è uno al mondo quello per non parlare dei tre dipinti i due clamorosi degli anni 90 e uno raffinatissimo degli anni 70 ma precipitate precipitatevi ma precipitatevi perché i prezzi di queste opere sono ancora avvicinabili ma se le stesse opere le trovi in asta se questi due quadri li trovi in asta e non ti parlo di sotebis o di cristis ti parlo delle aste minori italiane al prezzo che vi sta dicendo Gabriele al centralino non le comprate non le comprate non le comprate l'incidente che viene dalla collezione Iacorossi quell'opera di Schipano degli anni 70 formidabile in asta fa il doppio oggi ma in un'asta modesta normale non nelle grandi case d'asta oggi avete delle opportunità che definirle epocali è la verità e sapete quali sono i tre quadri sui quali guadagnate una montagna di soldi le tre opere del centenario Giuseppe Biasio che vengono dalla Biennale Veneziana su queste tre opere guadagnate una montagna di denari ma ve lo dico adesso ve lo dico adesso poi ve ne renderete conto nel tanto sono le operazioni di mercato internazionale in atto sugli artisti italiani quindi precipitatevi precipitatevi quello che vi ho presentato lo dovreste comprare tutto le opere che vi ho fatto vedere fino a questo momento dovrebbero essere già tutte confermate tutte 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 senza la minima esitazione quelle opere di Biasio sono più belle e più complete dal punto di vista intellettuale delle opere di Rauschenberg che pagate cifre iperboliche che letteralmente pagate cifre iperboliche allora che fate che fate che fate che fate la foto della Guspoli allora e gli oli di Mario Schifano e l'incidente di Mario Schifano mi dicono dal centralino che è tutto in fieri che ma li dovete prendere tutti le tre opere di Biasio che vengono dalla Biennale di Venezia ma non a chiacchiere pubblicate sul libro ufficiale della Biennale di Venezia a due soldi le comprate solo oggi poi quando il mercato ve le farà pagare 30.000 40.000 50.000 ciascuna allora correrete a comprarle perché tutti come accade con salvo sai quando accade che un artista diventa il punto di riferimento di tutto il mercato però quando comprate in quel momento è buonanotte bisogna comprare prima che il mercato esploda e su queste tre opere a parte il valore storico e il valore culturale di Biasio da rapportare addirittura a Rauschenberg queste opere le pagate nulla queste opere le pagate nulla e diventano punti fermi culturali ed economici della vostra raccolta poi le opere di Schifano che vi ho fatto vedere sono da sogno dalle fotografie intanto è confermata la 21 la 21 a quella dal Corriere della Sera guarda che meraviglia guarda che meraviglia e faccio i più vivi complimenti a chi ha confermato questo gioiello di Biasio ma le dovete prendere tutte e tre ma le dovete bloccare tutte e tre le dovete bloccare letteralmente tutte e tre ce ne sono ancora due clamorose ce ne sono ancora due polimateriche straordinarie non perdetele non perdetele Gabriele questa foto di Schifano la devo staccare? quasi quasi le due opere che anticipano addirittura le mitiche emulsioni pezzi unici catalogati autenticati registrati uno al mondo sono ancora qui i due dipinti ad olio veri pensati ed eseguiti da Mario Schifano che fate? che fate? poi comprate un'opera di atelier e la pagate gli stessi soldi oppure anche qualcosa di più sull'incidente mi sparerei perché non comprare al volo una delle opere storiche una delle opere che proviene dalla collezione mitica Iacorussi a un prezzo ancora ridicolo eh dai amici questo non è grave è gravissimo questo non è grave è gravissimo andiamo a vedere la 22 è pazzesca anche quella pubblicata sul libro della Biennale Veneziana che poi vado a verificare e mi metto gli occhiali vado a verificare e mi metto gli occhiali è l'ombra di Palmira quindi è proprio il tema per il quale Biasio è stato invitato alla Biennale di Venezia è proprio l'ombra di Palmira è proprio il tema per il quale Biasio è stato invitato alla Biennale Veneziana opera pubblicata sul libro ufficiale una vita di della Biennale Veneziana da non perdere nella maniera più assoluta poi c'è quella polimaterica con il richiamo a Burri con i mitici Sacchi con con l'attualità dell'immigrazione americana quindi con le problematiche della cultura americana contemporanea opera pazzesca queste i confini le problematiche sull'immigrazione eccetera quindi altra opera epocale di Giuseppe Biasio anche quella viene dalla Biennale Veneziana precipitatevi precipitatevi andiamo a rileggere quello splendido paesaggio anemico degli anni settanta il retro va bene io i quadri sono abituato a guardarli da davanti però eccolo qua eccolo qua opera archiviata opera storica guarda l'epoca guarda l'epoca ma poi il significato dell'opera anemico non è il paesaggio anemico è lo spettatore e perché lo spettatore diventa anemico vedi che c'è lo schermo televisivo dove viene proiettata l'anemia che contagia lo spettatore e in realtà l'umanità intera quindi l'anemia di pensiero codificato ai codici di ai codici trasmessi dal sistema di informazione sono amici dovete pensare che queste sono idee pensieri di 50 anni fa di mezzo secolo fa quindi dovete pensare all'attualità di questi pensieri che sono di 50 anni fa allora erano futuribili opera preziosa poi questo primordiale questo è uno dei quadri che amo di più questo è uno dei quadri di Mario Schifano che amo di più questo è uno dei quadri di Mario Schifano più intensi più importanti più significativi in assoluto poi le tre fotografie in pezzo unico tutte e tre storicizzate tutte e tre archiviate sono tre gemme per non parlare del mitico incidente della collezione Iacorossi per non parlare del mitico clamoroso straordinario incidente siamo nella prima metà degli anni settanta opera che proviene dalla mitica collezione Iacorossi bloccate le due opere di Biasio bloccate le due opere di Biasio perché vi mangerete le mani direte di Biasio ne avrei dovuti comprare dieci di Biasio li avrei dovuti comprare tutti questo questo è un genio questo è un genio e le due opere che sono ancora a vostra disposizione vengono proprio dalla biennale veneziana e pubblicate sul libro ufficiale precipitatevi precipitatevi stupende quella più legata alle problematiche statunitensi e quella più universale al numero 22 legata a Palmira e a i mitici monumenti distrutti a Palmira allora amici amici omo omo come si dice Goma Carmelo tu non sei umano no io ogni tanto mi ricordo di essere umano e adesso è mo adesso è mo lo dovete queste opere le dovete bloccare immediatamente non sono sostituibili né quelle di Schifano tanto meno quelle di Biasio non sono sostituibili precipitatevi Gabri vedo tanta la 22 in conferma la 22 di Biasio non c'è più c'è solamente la numero 20 c'è soltanto la numero 20 che è clamorosa che è clamorosa e che vi dico non perdetela perché veramente vi fate male e vi dico non perdetela perché veramente vi fate male poi sulle opere di Mario Schifano che devo dire andate a vedere le realtà di mercato attuali sulle opere di Mario Schifano vi devo dire andate a leggere le realtà di mercato attuali che poi all'80% si riferiscono non ad opere autografe come quelle che ho la fortuna di farvi vedere oggi si riferiscono ad opere autentiche ma di atelier ma di atelier quindi pensate da Mario Schifano ma eseguite da un suo collaboratore quelle che ho la gioia di farvi vedere oggi se non avete gli occhi foderati di prosciutto ve ne dovete accorgere da soli sono quelle pensate ed eseguite da Mario Schifano sono quelle pensate ed eseguite da Mario Schifano che è fondamentale che è fondamentale perché è fondamentale è fondamentale perché le le autentiche i pezzi di carta che noi veneriamo come l'oracolo come la verità assoluta all'estero non gliene frega nulla all'estero si lo prendono per quello che vale un accompagnamento ma quello che conta all'estero è l'autografia è il quadro è come il guercino vero il guercino di bottega il guercino vero lo compra al museo il guercino di bottega non gliene frega niente a nessuno non lo capite è è all'estero questa selezione perché lo Schifano nel mondo costa più che in Italia perché fanno questa selezione il quadro che non è autografo può avere l'autentica A l'autentica B l'autentica C l'autentica D ma nel mondo non lo vuole nessuno lo compriamo solamente noi italiani lo volete capire? No 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 perché? perché i mercanti italiani vi ficcano in testa quello che conviene a loro ovvio no? dai ma per favore ragionate con la testa perché lo Schifano a New York costa più che a Milano perché lo Schifano a Londra costa più che a Roma ma che ci vuole? cioè è facile capire non è così difficile capire è questo che a me mi fa venire dice Mattialteri diventi ineducato ma sono cose evidenti ma sono cose evidenti al di là delle chiacchiere al di là dell'informazione di massa a di là dell'informazione codificata uno che ragiona e guarda i fatti e se ne accorge ma se ne accorge visivamente ma poi se ne accorge anche dai risultati d'asta da quello che è la realtà del mercato perché a Cassel Schifano costa un'altra cifra? perché a Cassel Schifano costa più che alla fiera di Bergamo o la fiera di Verona perché? 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 me lo dite voi perché? è normale è normale e avete l'opportunità di acquisire delle opere di Mario Schifano grandiose e avete l'opportunità di acquisire delle opere di Mario Schifano epocali allora 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 vedo vedo tanti amici dolorosamente indecisi Gabriele perché tanti amici sono dolorosamente indecisi Perché arriveranno in ritardo, come dice giustamente Gabriele, arriverete secondi e per chi arriva secondo non c'è nessuna medaglia, non c'è nessun premio, non c'è nessuna gioia, non c'è nessuna possibilità. Lo vedi lo schifano dipinto da lui, ma te ne accorgi lontano un miglio, te ne accorgi lontano un miglio. Poi non mi do pace per quei reperti fotografici unici che sono qualcosa di magico dal punto di vista del collezionismo, dal punto di vista della storia. Non perdete l'ultima opera che ho a disposizione, pubblicata, che viene dalla Biennale di Venezia, di Giuseppe Biagio. Non perdete, questa è grandiosa, questa è qualcosa di esaltante, questa è qualcosa di eclatante, è il biagio da mettere accanto all'opera più bella e più raffinata di Raschenberg. È il biagio letteralmente da sogno, precipitatevi. È l'ultima opera di biagio che viene dalla Biennale di Venezia, che ho l'opportunità di offrirvi a un prezzo così particolare, a un prezzo così conveniente. Questa è bella come quella di Enrico Gilles. Questa è strepitosa, come quella di ieri con il Gilles. Qui c'è la citazione di Burri, qui c'è il sacco, c'è proprio la citazione di Burri, ma c'è tutta la struttura, quadro pazzesco, quadro straordinario, quadro polimaterico, grandioso. Dai, 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 bisogna decidere, bisogna bloccare le opere, bisogna bloccare le opere, bisogna fare proprie le opere. Noi facciamo di tutto per venirvi incontro sul piano del prezzo, sul piano delle possibilità di pagamento, facciamo di tutto per mettervi nella condizione di acquisire le opere vincenti. Quindi precipitatevi e non perdete le opportunità epocali. Allora, Gabriele, c'è un amico che mi dice che vuole vedere tutto il set, che facciamo? E facciamolo con te, dai. Eh, glielo facciamo vedere? Allora, 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 o allora, allora. Io non riesco ad andare avanti se non stacco queste opere di Mario Schifano. Allora, è il vostro momento magico, è il vostro momento magico, intervenite, intervenite. Allora, vedo, conto, tante indecisioni sulle opere fotografiche, una marea di indecisioni sul mitico incidente della prima metà degli anni Settanta, che viene dalla mitica collezione Iacorossi. E poi vedo un'esitazione assurda, lasciatemelo dire, sulle tre opere pittoriche, tre opere, una degli anni Settanta, due degli anni Novanta, ma pazzesche, ma qualitativamente straordinarie, qualitativamente da mercato internazionale. Qualitativamente, letteralmente da mercato internazionale. Amici, non esitate. È il momento magico, eh? È il momento nel quale il primo che mi telefona ottiene le condizioni di pagamento più clamorose. Ottiene il prezzo più clamoroso. È il momento magico del quale invito un amico vero che è interessato a queste opere. Gli dico, intervieni adesso. È il momento nel quale ottieni un qualcosa di magico. Ottieni un qualcosa di superiore. Ma devi intervenire subito. Ma devi intervenire subito. Voglio sentire immediatamente una telefonata a un amico che mi dice quell'opera la desidero per la mia collezione. Che prezzo particolare mi fai? Quali condizioni di pagamento particolari mi concedi? Questo è il vostro momento per il primo che chiamerà, per il primo che si metterà in contatto con il nostro centralino. Approfittate dei momenti magici. Approfittate dei momenti magici. Le foto in pezzo unico di Mario Schifano. Quell'incidente che viene dalla mitica collezione Iacorozzi. Quelle opere sulle quali non dovete assolutamente avere un secondo, un attimo di esitazione. Un secondo, un attimo di esitazione. Subito con 4B. Subito. No, no, non subito. Subito. No, no, no. No, immediatamente. Immediatamente. produzione. Grazie. E' il momento magico, è il momento nel quale dovete intervenire. E' il momento magico, è il momento delle decisioni, e poi ve le portano via queste opere, e poi nascono i rimpianti. Quindi, guardate che Schifano costerà più di salvo, ma quelli così, ma quelli così. Guardate che le opere autografe di Schifano, quelle da mercato internazionale, quelle come quelle che state vedendo oggi, costeranno più di salvo, costeranno più di salvo. Poi c'è, non fatemi dire, dai, le opere giuste, quando avete la fortuna di incontrarle a prezzi ancora possibili, non perdetele, e poi c'è l'ultima opera di Biasio, che adesso Carmelo vi farà rileggere, che non bloccarla, è una follia. Pensate, questo è un artista storicamente di valore incalcolabile, che diventa un punto di riferimento storico del mercato internazionale. A livello dei grandi americani, a livello di Rauschenberg, e l'opera che è ancora a vostra disposizione, che state vedendo, è quella pubblicata ed esposta alla Biennale di Venezia. È quella pubblicata ed esposta alla Biennale veneziana. Precipitatevi prima di trovarvi di fronte ad un fenomeno storico e di mercato di quelli ai quali si possono avvicinare solo i più ricchi, solo chi può spendere in arte su un dipinto cipre importantissime. Mi raccomando, non esitate. Sono momenti magici. Mi raccomando, non esitate. Io mi sto battendo per voi, perché letteralmente desidero che sfruttiate questo momento magico. Dovete sfruttare le disponibilità storiche del momento. Franco, vuoi dire che sono archivio tutti Monica, perché così... Allora, io ve lo dico, anche se... Io ve lo dico, è inutile che mi chiedete che archivio hanno le opere di Schifano. Sono tutte l'archivio che volete voi, l'archivio Monica Schifano. Ma vi ho detto qual è l'importanza. Gli archivi sono tutti... è tutto Monica Schifano. Sia le foto, sia... Poi quello della collezione Iago Grossi. Ma sono veri. Sono autografi. Che è molto più importante dell'archivio di provenienza. perché quello autografo ha un mercato mondiale. Quello con il pezzo di carta ha un mercato... Anche i non autografi con il pezzo di carta in Italia li comprate. Nel mondo no. Nel mondo sai come li chiamano? Souvenir di Mario Schifano. Hai capito? Devi comprare quelli, giusto che abbiano l'archivio perché la legge lo vuole. Chapeau. La legge va sempre rispettata. Ma non basta. Se sei intelligente, non basta. Poi, se sei uno della massa, va bene. Ma se hai il desiderio di possedere l'opera eterna, l'opera da museo, l'opera intoccabile, devi chiedere anche e soprattutto l'autografia. Dottor Boni, mi scusi, la numero 20 è stata prenotata. Mi dispiace, complimenti a chi l'ha presa, opera strepitosa, mi dispiace per chi ha aspettato, ma le opere di Biasio non ci sono più. Non ci sono più stracomplimenti agli amici che hanno saputo approfittare di questo momento magico. Franco, una ci sarebbe, eh? Eh, lo so, ma me la sono tenuta da parte. Lo vedi com'è Gabriele? Ogni volta capito. Lo vedi com'è Gabriele? Gabriele ha visto che all'inizio della trasmissione, prima che iniziasse la trasmissione, avete notato una cosa? Sì. Prima che iniziasse la trasmissione, io me l'ho messa via, me l'ho messa da parte e Gabriele lo rivela. Vabbè, dopo, vabbè, vabbè, vabbè. Quando bloccherete le opere di Mario Schifano, vi farò vedere. Dai, bloccate le foto, dai. Sono pezzi unici. Antecedenti le emulsioni, ve ne rendete conto? Questi sono i famosi sali d'argento del Santo Spirito, sono le prime prove. Sì, sono le prime foto storiche. che anticipano quelle che diventeranno le emulsioni. Valgono qualsiasi cipra per i musei internazionali. Leggi la tecnica della scheda. Allora, mi dicono che nella scheda... Dov'è la scheda di là? Ecco, devo leggere la scheda tecnica della... Monica, parla proprio dei sali d'argento su carta baritana. Leggila, 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 leggila tu. L'ho appena letta, che sono proprio quelli che lui con festa rubacchiava al Santo Spirito e faceva le foto da solo. Le facevano lui e festa da solo. Sono proprio quelle propedeutiche, quelle che rubava le lastre che rubava al Santo Spirito. No, 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 sono già quelle. Sono proprio quelle. Sono proprio le primissime, le prime volte al Santo Spirito di festa. e schifano. Ah, le prime volte. Dai, amici miei, avete un qualcosa che tutto il mondo vuole, che tutto il collezionismo mondiale vuole. Cioè, voi ricordate che per fare le prime emulsioni, festa e schifano, schifano e festa, rubacchiavano all'ospedale del Santo Spirito le vecchie lastre esauste per ricavare proprio le prime emulsioni. E queste sono le prime opere di questa... Ma non lo dico io, lo dice l'archivio, lo dice la storia. Quello che potete comprare oggi di Mario Schifano non ve l'hanno mai proposto e non vi capiterà mai più di poter comprare opere del genere, soprattutto ai prezzi di oggi. Ve lo dico perché disperatamente so che quello che vi stiamo proponendo non esiste a livello storico nel mondo, nel mondo, queste tre opere sono sacre dal punto di vista storico e dal punto di vista qualitativo. Quando vai a vedere i grandi artisti, ci sono le opere preparatorie queste sono le opere prime di un ciclo di opere che poi diventa determinante nella storia di Mario Schifano. Oh, e non sono parole, questo è tutto archiviato, è tutto storicizzato, non è che stiamo così chiacchierando. mi raccomando non perdetele, mi iper raccomando non perdetele. Dottor Boni, mi scusi l'interruzione, la numero 11 è stata riservata, prenotata. La numero 11 è quel paesaggio anemico prezioso degli anni 70 che è un qualcosa di magico, che è un qualcosa di storico, veramente complimenti, complimenti, complimenti. Ma tutte le opere che ho la gioia, la fortuna di potervi proporre oggi vanno confermate. Tutte le opere che ho la gioia, la fortuna di potervi proporre in questa trasmissione magica letteralmente vanno confermate. Mi iper raccomando. È successo. Dai, 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 dai. Intervieni immediatamente perché veramente vi sto dando l'incredibile. Letteralmente vi sto dando l'incredibile. Mi sta ritelefonando quell'amico che mi ha chiesto di... Un'altra cosa fa, venti minuti fa, mi ha chiesto ma me lo fai vedere il set? Ma me lo fai vedere il set? Sì, amici, ve lo faccio vedere, ma scusatemi, scusatemi, queste opere vanno acquisite, queste opere, questa prendila, te la compra, uno dei più grandi musei del mondo. Questa prendila di corsa. L'ora esatta, la vediamo nei dettagli e anche dietro. L'ora esatta, adesso chiederò a Carmelo di farla vedere nei dettagli e poi ve la faccio vedere anche dietro. Eccola qua. Questa è nei dettagli, e poi ecco il dietro ecco il dietro con la cornice con la mitica firma pazzesca, 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 ma prendetele immediatamente, ma bloccatele immediatamente, ma bloccatele immediatamente, e ve lo ripeterò fino all'ossessione. E sapete qual è l'altra opportunità magica? L'incidente, l'incidente, quel monotipo storico provenienza raccolta Ariacogossi, uno al mondo, uno al mondo, monotipo, uno al mondo, opera grandiosa, opera letteralmente grandiosa, per la quale è inutile dirlo mi batto come un leone. Per la quale inutile dirlo letteralmente mi batto come un leone. Allora, Carmelo, dobbiamo soddisfare quella richiesta, ma in effetti poi ci sono un mare di opere da sogno nella trasmissione di oggi. Allora, lo vedi Tano Festa fatto da Tano Festa? Lo vedi Tano Festa vero? 1974 quando usa ancora gli smalti che poi si sono gli omaggi a Michelangelo, gli omaggi alla Cappella Sistina, ma sono gli omaggi alla sua filosofia, sono le opere ancora pure, ancora intatte, ancora magiche di Tano Festa. Questo è un altro artista sul quale io sono strasicuro che su Tano si farà una revisione totale delle opere e quando si accerterà a livello ufficiale che quello che vi dico io è vero, cioè che le opere autografe di Tano sono meno di mille, le opere autografe di Tano, cioè quelle pensate fatte da lui sono non poche, pochissime e quelle degli anni Ottanta che saranno migliaia. Franco scusa, intanto è confermata l'ora esatta di Schifano. L'ora esatta di Mario Schifano non c'è più e faccio i più clamorosi complimenti. Queste opere vanno comprate tutte, vanno comprate tutte, bloccate l'incidente, bloccate i due quadri degli anni 90, bloccate le altre due fotografie, una più clamorosa dell'altra importantissime di Mario Schifano. Mi iper raccomando, quell'incidente non lo dovete perdere per nessun motivo e un'opera di Tano, vi stavo dicendo che le opere di Tano degli anni 70 sono introvabili, ma quelle degli anni 80 subiranno una, vedrete che da migliaia diventeranno poche centinaia, diventeranno poche centinaia. Tano è un altro artista magico del quale già in vita, già quando lui era ancora in vita si è approfittato il mercato. Quindi su Tano quando comprate le opere autografe comprate opere che restano nella storia e poi guardate la bellezza, la poesia, il fascino di quell'opera straordinaria che letteralmente ho la gioia di mostrarvi oggi. Vedete lo smalto, questo è il Tano da museo, questo è il Tano festa da museo. A me dispiace da morire quando comprate i Tano festa approssimativi poi li pagate 7000, 8000, 5000 e dice ma l'ho pagato poco, ma hai comprato il nulla, hai buttato 6000, 7000 che è un peccato. Quando con un pizzico di più puoi comprare le opere storiche, puoi comprare le opere sublimi, puoi comprare le opere da museo, puoi comprare le opere da investimento. Questo è da museo, Tano dal paradiso terrestre 1974 smalto, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Poi su Mambo non vi dico più nulla, vi ho detto di tutto di più, poi quando mi chiedete di spiegarvi un'opera di Mambo lo faccio volentieri, ma Mambo diventerà uno degli artisti italiani più pagati di sempre al mondo. Quando comincerà l'operazione Mambo dal punto di vista economico, vi mangerete le mani, perché costerà talmente tanto, subito, immediatamente, Mambo è riservato ai multimilionari, come Picasso è riservato ai multimilionari, come che ti posso dire, Tombly, come Rauschenberg, ma come Matisse, come Burri, come Fontana, ormai sono artisti destinati ai multimilionari. Mambo, appena comincerà l'operazione Mambo, dal punto di vista economico, per le ragioni che vi ho spiegato un milione di volte, culturali, storiche e di disponibilità delle opere, Mambo diventa l'artista riservato ai milionari di domani. Qui c'è un'opera molto interessante, qui c'è un'opera 80%, questo tornando a casa sulla quale potremo meditare a lungo per i significati, per il messaggio che Mambo ci affida. Olio su tela, 80%, meraviglioso di Renato Mambo. Poi, ce ne andiamo nel 1962, guarda che razza di quadro di Tobey. In 1962, Venice, la A, la prima Venezia, preziosa, tela 86 per 45 di Mark Tobey. Trovalo? trovalo un quadro così, una tela così di Tobey del 62? Ma chi se la vende? E chi te la vende? E chi te la dà? E chi te la dà? La devi andare a rubare in un museo Tobey tra i grandi artisti del XX secolo, tra i grandi artisti americani, è il più singolare, il meno commercializzato, il più affascinante dal punto di vista della formazione culturale e dell'espressione storica. opera di Mark Tobey introvabile, introvabile, una tela del 62, addirittura emozionante, addirittura emozionante, veramente superba. Mamma mia, Gabri, ma sei sicuro del prezzo del Tobey? è buttato via perché le cartine di Tobey, non l'olio su tela, cioè le tecniche miste, i disegni colorati, costano di più, costano di più, questa è una tela strepitosa, questa è una tela straordinaria, letteralmente buttato via, letteralmente buttato via, opera che il prezzo non l'avevo guardato, ma proprio mi sorprende, mi sorprende in maniera assoluta, letteralmente tutto pensavo, meno che una tela di Tobey, poi di questo periodo, parliamo del 62, potesse essere venduta ad una cifra del genere. letteralmente non ci credo ancora, non ci credo ancora, opera preziosissima, opera preziosissima, assolutamente totalmente sotto prezzo, opera preziosissima, assolutamente totalmente sotto prezzo, veramente un'opera preziosa di Tobey. Poi il pittore che adoro, il pittore che amo alla follia e che vorrei avere tanti quadri di questo pittore. guarda che gioiello questa fiaba straordinaria di Emilio Tadini, guarda che emozione questa fiaba straordinaria di Emilio Tadini, artista summo, artista che dovrebbe essere considerato quanto adami almeno, dovrebbe essere considerato almeno quanto adami e che oggi potete comprare ancora a cifre ridicole, a cifre letteralmente ridicole. Un'opera preziosa di Emilio Tadini, un'opera del 2001, un olio su tela ma veramente raffinato ad una condizione di prezzo inesistente ad una condizione di prezzo letteralmente inesistente, letteralmente assurda, una condizione di prezzo che non ha uguali. Mi raccomando, bloccatelo al volo perché è proprio un regalo. Sia il Tobey sia l'Emilio Tadini sono due opere di grande qualità a prezzi inesistenti. Poi uno dei pittori che adoro è questa opera di Nicola De Maria 1987, piccolina ma di qualità eccezionale. Quando parliamo di De Maria parliamo degli artisti sostenuti da Achille Bonitoliva, degli artisti che vengono da quel gruppo sicuramente il più affascinante, il più pittore, il più pittore nel senso storico della parola. Gloria 1987, Olio su tela 32x22 di Nicola De Maria. 32x22 delizioso di Nicola De Maria. E poi è bello forte perché il Tadini ma poi a che prezzi ma poi a che prezzi di De Maria ne riempiango uno che adesso avete comprato a due soldi e adesso chiedono centinaia di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro. Bloccate il Tobei, bloccate il Tobei, bloccate il De Maria, bloccate immediatamente queste opere e non lasciatevi sfuggire le opere fondamentali, non lasciatevi sfuggire le opere clamorosamente vincenti. C'è il Mambo da sogno, c'è quell'opera di Tano Festa storica, vera, preziosa, di qualità straordinaria. guarda chi arriva. Scendi dai piani alti. Tu non crisci ma scendi. Gabri, che succede? ancora non siete entrati nella schiera degli Schifano, dei Mambo, del Tobei, del Tadini, del gioiello di De Maria. Adesso vi presento come gioia? adesso ci arriviamo, ci arriviamo subito. Allora, gli italiani che il mondo vuole. Marcello lo giudice, Alessandro Algardi. Gli italiani che oggi sono sulla cresta dell'onda nelle gallerie internazionali, nelle grandi importanti gallerie internazionali. Vai a New York vogliono lo giudice e Algardi. Vai a Melbourne degli italiani vogliono lo giudice e Algardi. Che poi sono artisti completamente differenti tra loro, no? Questo è un mitico Eden blu. Lo giudice viene proprio dall'Etna, dal vulcano, dalle terre. Lui è laureato proprio in Oddio adesso mi verrà il nome. Sapete agli ottantenni come me cosa gli succede? Che delle volte gli manca la parola, gli manca il termine giusto, ma poi mi viene, ma poi nel corso della chiacchierata mi viene. Marcello lo giudice è uno di quegli artisti che sentono proprio il rapporto con il terreno, il rapporto con l'ecologia, il rapporto con le problematiche sulla conservazione della natura nel pianeta. e questi Eden sono dei meravigliosi rifugi. Lo giudice con la Biennale di Venezia di due anni fa ha conquistato il mercato mondiale. Le grandi gallerie internazionali tu vai a Kassel e le grandi gallerie internazionali ti presentano le opere di lo giudice solo che te le presentano a cifre molto molto diverse a quelle a cui abbiamo la gioia di potervele proporre noi. Un Eden Blu storico prezioso di Marcello lo giudice e poi un altro artista che trova posto nei grandi musei che addirittura ha esposto al Guggenheim a New York quindi un altro di quegli artisti pazzeschi legato proprio alla calligrafia le opere di Alessandro Algardi sono le meno telegeniche della storia le dovete vedere proprio da vicino la fai vedere da vicino perché eccola qua vedete questa si chiama Il Poema Evanescente è un olio su tela 80x90 prezioso di Alessandro Algardi prezioso di Alessandro Algardi vale una montagna di soldi tu vai oggi in studio a Milano da Alessandro Algardi un'opera così ti chiede 25 mila euro è un artista che oggi ha un mercato internazionale da paura che ha letteralmente un mercato internazionale da paura e vi sto dando un'opera del 2019 questo poema evanescente una tela 80x90 strepitoso l'Eden blu di Marcello Lo Giudice che vi ho fatto vedere pochi istanti fa strepitoso il dipinto di Marcello Lo Giudice che vi ho appena fatto leggere ma guardate che sono orgoglioso del set di oggi un Algardi così lo trovi nelle più grandi gallerie del mondo lo trovi da Gagosian lo trovi a Londra lo trovi a New York lo trovi a Parigi a Melbourne siamo di fronte ad un artista di valore assoluto nel mondo Eden Blu di Marcello Lo Giudice al prezzo che vi sta chiedendo Gabriele non esiste in nessuna galleria del mondo quel gioiello di Nicola De Maria quell'opera di Emilio Tadini quella gemma del 62 di Mark Tobey tutte opere da mostra internazionale da mercato internazionale tutte opere delle quali essere orgogliosi e tutte opere che vi stiamo proponendo ancora a prezzi piccoli 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 rispetto al valore obiettivo a livello internazionale rispetto al valore obiettivo a livello grandi gallerie del mondo grandi gallerie del mondo approfittate di queste opportunità ora non vi voglio far vedere un quadro ma vi faccio vedere uno dei dipinti più belli che abbia mai presentato in televisione ma vi voglio far vedere uno dei dipinti più clamorosi che abbia mai presentato in televisione è un'opera meravigliosa di un pittore tedesco che oggi sta diventando un mito che oggi sta diventando una leggenda questa è una delle opere più rare è una delle opere più belle un metro e venti per due metri e dieci una tela di un metro e venti per due metri e dieci di Marcus Willecke Willecke andate a Berlino è un mito nel mondo Marcus Willecke è un punto di riferimento storico assoluto è uno degli artisti più ambiti e più amati a livello mondiale ed è uno degli artisti più rari in Italia in Italia abbiamo pochissime opere di Marcus Willecke e questa è sicuramente la più bella la più importante che sia mai stata in Italia di questo artista un metro e venti per due metri e dieci tenete presente che è lo schifano tedesco tenete presente che tra gli artisti tedeschi nel mondo della sua generazione è il numero uno Gabriele mi chiede una cifra ridicola per un'opera da mercato internazionale che poi è un'opera letteralmente esplosiva è un'opera letteralmente affascinante come non mai è una delle opere più importanti più belle più significative della storia di un artista che sta diventando un mito internazionale vale le opere più clamorose di Mario Schifano non perdete questa gemma storica di Marcus Billec è da urlo è da urlo è uno dei quadri più belli è uno dei quadri più speculativi è uno dei quadri più importanti che abbia avuto la gioia di proporvi in televisione e oltretutto ve lo sto proponendo a un prezzo ridicolo rispetto alle quotazioni attuali di questo artista magico di questo artista clamoroso di questo artista affascinante come non mai una delle opere più rare e una delle opere più belle che abbia avuto la gioia di proporre alla vostra attenzione ma non è finita ma non è finita perché la trasmissione di oggi è letteralmente magica guarda questo me lo porterei a casa questo è più bello di Apple questo è più bello di Yorn questo è un Lindstrom del 58 le dimensioni sono contenute ma come sempre vi dico non sempre la grandezza di un dipinto si misura in centimetri questa è un'opera di dimensioni contenute di Lindstrom ma museale una delle opere più belle più affascinanti della storia del gruppo cobre 27 per 46 5 1958 una delle opere di Lindstrom più affascinanti e più significative che abbia visto nella mia vita più bello di Apple addirittura a livello delle opere più significative delle opere più affascinanti di Yorn opera fantastica di Ben Lindstrom non sono le opere tarde non sono le opere banali non sono le opere ripetitive di Lindstrom ma è una delle opere storiche 1958 158 di questo straordinario artista opera preziosa opera letteralmente preziosa e poi e poi e poi e poi vedete io quando ho la fortuna di potervi proporre un set di questo valore quando ho la fortuna di potervi proporre un set di questa importanza vorrei sentire il vostro entusiasmo vorrei raccogliere immediatamente il vostro entusiasmo una gemma di Lindstrom del genere non può che provocare il vostro entusiasmo più assoluto un'opera di Ville che è di questa importanza Algardi e Lo Giudice due artisti che oggi vuole il mondo una gemma di Nicola De Maria un'opera preziosa di Emilio Tadini un tobei su tela del 62 che non lo trovi da nessun mercante in Italia una gemma di Renato Mambo un'opera vera e preziosa di Tano Festa del 1974 e poi l'ottenuta per ultima l'opera dell'essere o non essere l'opera dell'essere o non essere Questa è quel genio di Franca Pisani Questa è l'opera vincente il mitico spazio privato un metro per un metro di quel genio che è Franca Pisani fate attenzione Franca Pisani è una leggenda è un mito dai mitici operozio e manumisso che abbiamo visto nell'ambito della poesia visiva addirittura al Boburga a Parigi dalle mostre fino al museo degli uffizi fino al macro di Roma fino al marino marini di Firenze alle tre biennali di Venezia e ci sarà la quarta e ci sarà la quinta adesso si comincia a fare il catalogo generale dell'opera di Franca Pisani poi vi annuncio non vi posso dire né dove né quando ma c'è in preparazione già fissata a livello museale una mostra non importante pazzesca ma soprattutto Franca Pisani è in mano ai più grandi operatori finanziari del mondo quelli che portano i quadri a milioni quelli che portano i quadri a milioni Franca Pisani è un genio e queste ultime opere pazzesche perché perché i famosi tratti di Franca Pisani quelli legati proprio all'origine della pittura quelli legati proprio all'idea del primo uomo che ha voluto lasciare la traccia di se stesso che lei ha dipinto nella poesia visiva che lei ha dipinto nelle grandi mostre internazionali in maniera primaria asettica trasparente finalmente prendono colore prendono vita e si confrontano con lo sfondo nero caravaggesco legato proprio alla popolarizzazione dell'idea dell'arte che nasce da Caravaggio quella luce non luce sulla storia della pittura sulla storia degli eventi che Franca Pisani raccoglie in un ciclo di opere epocali siete di fronte a uno dei più grandi artisti contemporanei viventi al mondo siete di fronte a un genio che adesso viene riconosciuto da tutta la critica italiana e internazionale e verrà glorificato da prezzi che è inutile che ve li dica che è inutile che ve li dica precipitatevi ho un'opera pazzesca di Franca Pisani questo spazio privato e darvi la possibilità di comprare Franca Pisani oggi è come avervi dato in passato la possibilità di comprare le opere più belle di Manzoni le opere più belle di Boetti le opere più belle di Sgro questa è un'artista destinata ai grandi prezzi internazionali e al mercato mondiale non comprare oggi Franca Pisani è un errore storico monumentale monumentale come quando non avete comprato le opere più belle di Salvo come quando non avete comprato le opere più significative di Manzoni questa è un'artista che fa la storia contemporanea e non lo dico io lo dice la critica più qualificata del mondo non la critica più qualificata d'Italia non c'è artista italiano che abbia una storia museale e una storia bibliografica paragonabile a Franca Pisani precipitatevi è l'unica opera che ho la possibilità di farvi comprare e chi la comprerà fa l'investimento culturale e l'investimento economico tra i più premianti della contemporaneità tocca a voi tocca a voi opera superba amici ho finito con quest'opera vi ho fatto vedere tutto il set abbiamo tempo abbiamo tempo quindi adesso è il vostro momento adesso siete voi che mi dovete dire su quale opera soffermare la vostra attenzione su quale opera discutere il prezzo su quale opera vivere con partecipazione assoluta la vostra passione le rivediamo le rileggiamo ma prima di rileggerle prima di ritornare a farvi rileggere tutte le opere vorrei sentire la vostra voce quali sono le opere che vi hanno colpito quali sono le opere che volete inserire nella vostra raccolta quali sono le opere per le quali sentite un trasporto un'emozione un desiderio di possesso quali sono le opere sulle quali la vostra attenzione si rivolge con accompagnata da un'emozione è fondamentale c'è quest'opera di Will che è qualcosa di fenomenale c'è quest'opera di Will che è qualcosa di incredibile non comprare i pisani non comprare al gardi non comprare lo giudice oggi significa perdere gli artisti vincenti che già sono delle certezze di mercato internazionale non delle possibilità di mercato internazionale ma delle certezze di mercato internazionale avete visto quel gioiello di De Maria state leggendo l'opera preziosa di Emilio Tadini state leggendo un'opera letteralmente preziosa di Emilio Tadini Tobey del 62 tela Mark Tobey del 62 tela di quelle dimensioni di quella storia di quell'importanza dai veramente è un qualcosa di particolarmente significativo è un qualcosa di affascinante come non mai poi quella splendida opera di Renato Mambo e quella raffinatissima gemma del 74 di Tano Festa opera da grande collezione questo è uno smalto storico di Tano Festa e poi ritorniamo sulle opere di Mario Schifano le due opere autografe di Mario Schifano preziose degli anni 90 le due foto delle quali abbiamo parlato con grande partecipazione di Mario Schifano storiche pezzi unici archiviati storicizzati e poi non vi ho fatto vedere ma vale la pena leggerle con attenzione perché ve le regalo due compressioni storiche di Arman queste spine elettriche e questi tappi di birra sono opere di Arman opere legate al nouveau realismo opere di grande importanza di questo genio perché Arman Fernandez lo sapete perfettamente è uno di quegli artisti che hanno mercato in tutto il mondo il fondatore di quel movimento storico incancellabile che si chiama nouveau realismo due gemme di Arman due gemme di Arman oltretutto grandi perché la numero 18 la Carisberg è addirittura no l'altra 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 la numero 18 eccola qua questa è addirittura del 96 è addirittura del 96 ed è 48 per 30 naturalmente come tutte le compressioni di Arman bifrontale l'altra è un pochino più tarda è del 2005 quello che faccio vi voglio mettere alla prova Arman vero Arman vero Arman storico io ve le ho vendute le opere di questa tipologia di Arman a 7000 7500 cifre di questo genere eccole qua guarda cosa sono guarda cosa sono pronti pronti 2900 euro ciascuna 2900 euro ciascuna Arman veri Arman storiche è inutile dire che opere del genere di Arman a 2900 euro ciascuna non ve le mette a disposizione nessuno al mondo inutile dire che dovete afferrare l'opportunità al volo sono quasi mezzo metro d'altezza è 48 cm d'altezza precipitatevi prezzo allucinante prezzo impensabile prezzo assurdo per due compressioni di Arman una più bella dell'altra una più significativa dell'altra da urlo da urlo da urlo da urlo da urlo dai adesso ditemi voi su quali opere vogliamo ritornare su quali opere vogliamo approfondire la conoscenza sulle opere di Schifano sull'opera straordinaria di Marcus Willeck dove vi porterei io io se devo tu te lo ricordi perché nonostante sei giovane ancora hai molta memoria hai una gran memoria io vi ho obbligato ma letteralmente obbligato a comprare le opere di Boetti tra il 2000 e il 2005 ve ne ho vendute oltre 2600 ma vi obbligavo a comprarle vi obbligavo dottor Boni mi scusi ancora l'interruzione abbiamo un interessato alla 12 e la 13 di Schifano le due opere storiche le due opere autografe guardate questa ve la voglio far vedere una volta tanto sono io che voglio farvi vedere il retro dell'opera perché questa è una delle rarissime opere dove Schifano ha scritto il titolo con la sua calligrafia vedi preistorico preistorico 1988 vedi preistorico 1988 è una delle opere rigorosamente autografe di Mario Schifano dove leggi in maniera evidente l'inconfondibile calligrafia di questo strepitoso artista sono due opere da sogno le ho volute mettere insieme proprio per far vedere per farvi riconoscere la mano di Mario Schifano la calligrafia pittorica di Mario Schifano che va oltre il tema che va oltre il soggetto che è fondamentale per il mercato internazionale di questo artista due opere clamorose due opere da batticuore due opere iper vincenti di Mario Schifano due opere letteralmente da urlo di Mario Schifano prendetele 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 è fondamentale prendetele bloccatele perché opere di questa qualità opere di questo livello opere rigorosamente autografe di Mario Schifano a un prezzo del genere non le troverete mai 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 sottolinea mai dillo più forte mai urlalo mai mai due opere fondamentali di Mario Schifano precipitatevi 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 due opere di Mario Schifano letteralmente da urlo letteralmente da urlo da magia quando vedi questa mano quando vedi questa calligrafia ti rendi conto del perché Mario Schifano viene ritenuto il pittore di gesto più importante al mondo della sua generazione addirittura superiore a Tombli addirittura superiore a Tombli proprio sul piano della calligrafia pittorica due opere magiche sono da prendere tutte e due sono letteralmente da prendere tutte e due è difficile scegliere l'una piuttosto che l'altra sono due opere da catturare al volo sono due opere da non perdere nella maniera più assoluta poi sempre di Mario Schifano andiamo a vedere la numero 23 un'opera che è un mito è un monotipo storico di Mario Schifano eccolo qua che viene da una delle collezioni più clamorose questa viene dalla collezione di Ovidio Iacorossi di Ovidio Iacorossi questa è una delle opere della prima metà degli anni settanta più rare e più importanti della storia di Mario Schifano un monotipo pezzo unico al mondo letteralmente da urlo un monotipo pezzo unico al mondo letteralmente da fantascienza un qualcosa di introvabile sul piano del collezionismo e sul piano della storia dell'arte una delle opere più ambite e più importanti a livello internazionale una delle opere storicamente più ambite e più importanti nella storia del mercato amici mai 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 perdere un'opera di questo livello amici mai 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 nella storia perdere un'opera di Schifano di questa importanza un'opera di Schifano di questa straordinaria clamorosa importanza Gabriele vorrei telefonare gli amici più cari la provenienza di quest'opera l'unicità di quest'opera l'epoca il prezzo clamoroso al quale oggi possiamo affidare a un nostro amico un'opera così importante di Mario Schifano ve lo dico proprio con il cuore in mano non perdetela non perdetela non perdetela opera pazzesca di Mario Schifano Schifano è un genio e le opere che ho la gioia di farvi vedere oggi sono tutte opere archiviate storicizzate ma soprattutto autografe ma soprattutto autografe quindi quelle opere di Mario Schifano che hanno spalancate le porte del mercato internazionale le opere non autografe anche se autenticate non entrano sul mercato internazionale ve lo dicevo prima ve lo ripeto adesso mai 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 perdere le opere di questo livello poi vi stavo dicendo una cosa estremamente importante io non sono un mostro non ho il dono di leggere il futuro questo non c'era nessuno al mondo lasciamo la chiromante lasciamo l'illusione della possibilità di leggere il futuro però io ho cominciato questo lavoro con mio padre e con i fratelli russo quando avevo 15 anni quando avevo 14 15 anni quindi sono in questo campo ho conosciuto gli artisti della gli artisti del non dico della mia generazione ma quelli anche della generazione precedente ho avuto la fortuna di conoscerli personalmente ma soprattutto ormai ho la piena coscienza di come funziona il mercato di come funziona il sistema di mercato e oggi mettetevelo bene in testa se oggi ci fosse anche un artista enorme anche un artista di grossissimo calibro che per una ragione o per l'altra non si non si assimila al sistema di mercato non accetta la collaborazione delle grandi organizzazioni economiche che costruiscono il mercato perché perché costruiscono la visibilità dell'artista oggi un grande artista che non ha accanto un operatore di mercato in grado di investire denaro perché questo artista diventi visibile a livello museale e a livello internazionale potete metterci la firma uno può essere un grosso artista ma non riesce ad avere la visibilità ed acquisire il prezzo di mercato internazionale o mi direte che i grandi operatori finanziari cercano i grandi artisti per investire il loro denaro quindi è molto più probabile che un artista di capacità importanti trovi la visibilità trovi l'operatore finanziario che lo sostiene ma il mercato funziona così le operazioni di mercato vengono preparate l'operazione di mercato su Mambo sarà colossale ma come vi chiesi tra il 2000 e il 2005 di investire tutti i vostri risparmi su Boiti e quello che vi vendevo a 300 mila lire oggi lo vendete a 80 mila euro e quello che vi vendevo a 10 milioni delle vecchie lire e vi dicevo che sarebbe arrivato a costare 300 milioni delle vecchie lire e mi beccavo un mare di insulti perché tutti dicevate che non potevo ingannare il pubblico con false promesse quelle opere che vi ho fatto comprare a 10 milioni delle vecchie lire e le mie erano false promesse quando vi dicevo che sarebbe costato 300 milioni delle vecchie lire oggi costa 2 milioni di euro 4 miliardi delle vecchie lire e pochi mi chiedono scusa per avermi insultato allora e questo è accaduto ancora su Isgro poi in termini diversi su tanti pittori sapete qual è l'artista contemporaneo che costerà cifre analoghe a Boetti analoghe a Boetti io oggi ho un solo quadro di quest'artista ed è una donna che ormai ha conquistato i musei del pianeta ed è in mano a un operatore finanziario che la porta ai livelli americani io ho un'opera soltanto oggi ed è Franca Pisani mi fa rivedere quell'opera di Franca Pisani chiedo all'amico più caro ai miei figli ai fratelli alle persone più vicine un'opera di Franca Pisani falla entrare nella tua collezione un'opera di Franca Pisani falla entrare assolutamente nella tua collezione e oggi di opere di Franca Pisani ne ho una solamente ed è grandiosa ed è grandiosa ed è eccezionale ed è straordinaria è questo spazio privato un metro per un metro dove alla poesia visiva all'intuizione dell'arte povera si aggiunge il colore e la luce vitale caravaggesca siete di fronte ad un'opera immortale questo è l'investimento culturale ed economico più incredibilmente proficuo che potete fare oggi accanto ad un'opera di Mambo mi raccomando chiedo all'amico più caro ma all'amico che ha meno possibilità economiche vedete chi ha molte possibilità economiche finisce col guadagnare sempre quando io vi chiedevo di comprare l'ovatta di Manzoni e vi chiedevo di comprarla quando costava 7-8 milioni delle vecchie lire chi aveva maggiori possibilità economiche l'ha comprata magari non a 7-8 milioni delle vecchie lire ma a 30-40 milioni delle vecchie lire e oggi ne fa 700 mila 800 mila euro su Franca Pisani accadrà lo stesso oggi la pagate niente domani dopo la mostra che c'è in preparazione a livello pazzesco la dovrete pagare non più il prezzo che vi sta chiedendo il centralino oggi ma la dovrete pagare i 30 mila i 40 mila euro che saranno ancora nulla che saranno ancora nulla però molti di noi che oggi al prezzo che vi sta chiedendo il centralino magari a rate la possiamo comprare già a 30 mila 40 mila euro non la potremo più comprare e la compreranno le classi più agiate che poi le rivenderanno non a 60 ma a 300 mila euro a 400 mila euro e i ricchi diventano sempre più ricchi perché possono approfittare del momento del lancio ma chi non ha possibilità economiche superiori coloro per i quali già oggi quest'opera costa un prezzo impegnativo la devono comprare di corsa oggi magari a rate e sono le persone a cui tengo di più le persone che hanno risorse limitatissime e che magari per comprare un'opera del genere rinunciano a qualcosa capite ve lo dico drammaticamente avere l'opportunità di acquisire opere di Franca Pisani a questo prezzo è qualcosa di magico è qualcosa che vi premia in maniera importante nel tempo mi raccomando non perdete un'opera di questo livello è l'unica che ho è l'unica che ho in questo momento di questo ciclo di opere di Franca Pisani che è il ciclo che la porta sul mercato mondiale ai prezzi più clamorosi mi raccomando lo chiedo ad un fratello lo chiedo ad un amico non perdere quest'opera non perdere quest'opera non perdere quest'opera ti fai male commetti un delitto verso te stesso poi se vuoi una spiegazione più approfondita del significato dell'opera non hai che domandare allora amici stiamo entrando nella fase finale di una trasmissione magica con dei contenuti letteralmente straordinari chiedetemi 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 perché siamo proprio nella fase finale allora per far sì che chi non ci ha seguito fin dall'inizio abbia una visione del tutto chiedo alla regia di proporre una rivisitazione di tutte le opere che abbiamo visto le rileggiamo le rivediamo le riconsideriamo poi fatemi tutte le domande che vi vengono in mente sulle opere che stiamo proponendo alla vostra attenzione rileggiamo il tutto chiedetemi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.